Mauro Icardi e Vanda Nara, nuovi tatuaggi per la coppia Il cuoriclasse dell'Inter Mauro Icardi dedica anima e pelle alla sua famiglia. Dopo il leone e i due cuccioli tatuati sul busto, l'attaccante sta ultimando anche il volto della piccola Isabella sul polpaccio, così Francesca, la prima figlia tatuata sull'altro arto ndr, non si sente sola, commenta lui su Instagram. Tattoo nuovi anche per Vanda Nara, un aereo sul fianco e un leone sul braccio. Tra le tante passioni di Mauro Icardi e Vanda Nara cè anche quella per i tatuaggi, per lui in formato extra, per lei decisamente meno vistosi. La coppia, inseparabile, alla faccia delle costanti voci di crisi, ha appena ultimato una sessione di tattoo con un artista di fiducia. . Lo stesso che a maggio ha inciso sulla pelle dell'asso argentino Leone e i suoi due cuccioli che rappresentano ovviamente lui e le bambine Francesca e Isabella, avute da Vanda. . Ma giusto per puntualizzare l'amore smisurato per le sue creature, Icardi è andato oltre. Se tempo fa ha tatuato il volto della primogenita su un polpaccio, in queste ore ha completato su quello libero il ritratto dell'ultima arrivata, che il 27 ottobre ha spento la sua prima candelina. . Vanda invece si è fatta tatuare sul fianco un aereo che ha mostrato sui social cinguettando, quella tan alto comotelle eventus e os. e un leone sul braccio. . Praticamente il marchio di famiglia. . . . . . . . . Grazie a tutti. Grazie a tutti.